Chiaramente insomma è bello aver vinto in questo modo l'ultima partita, abbiamo pareggiato la prima, poi insomma stiamo vincendo alcune partite di fila, questo ci dà fiducia ed è stato insomma importante iniziare in questo modo e lo faremo vedere anche a Palermo. Chiaro mi devo ancora adattare, devo imparare ancora il calcio italiano, chiaramente non è la stessa cosa, ho anche cambiato paese, dunque anche per quanto riguarda la condotta degli arbitri penso di dovermi adattare. Adesso è un po' presto per vedere quali sono poi i nostri obiettivi, dobbiamo chiaramente guardare all'ultima partita che rimane molto importante, dobbiamo prendere la stagione per adesso partita per partita, il nostro obiettivo è quello di arrivare tra i primi tre, chiaramente anche vincere lo Scudetto sarebbe bello, però per il momento quello che dobbiamo fare è guardare partita per partita. Grazie mille, grazie mille.